Con l'arrivo del covid a inizio 2020 la vita di tutti noi è stata stravolta in lungo e in largo. Tra i mille cambiamenti cui siamo stati sottoposti, però, una costante resta. Abbiamo, avevamo e avremo sempre bisogno gli uni degli altri, il che è paradossale, no? Sempre più lontani ma sempre più vicini. Necessitiamo cioè di maggiore empatia, supporto reciproco e connessione per affrontare tutto quello che dovremo affrontare. E per connessione non intendo quella delle riunioni in pigiama o delle cene con i parenti via Zoom, che poi per carità ha anche i suoi vantaggi. Non parlo cioè di vicinanza virtuale promessa dai dispositivi tecnologici, con la quale ovviamente non ho comunque nulla in contrario, ma di allenare le nostre competenze umane. Prima tra tutte l'intelligenza emotiva, ovvero la capacità che tu hai di riconoscere le tue emozioni e le emozioni dell'altro. Non solo, però perché serve anche saper gestire e esprimere queste emozioni e saper leggere le emozioni che sono tra te e il tuo interlocutore in modo da cogliere degli importanti dettagli sulla relazione stessa. Figata, dirai, ma com'è che si allenano queste competenze? Vuoi vedere quattro semplici passaggi per iniziare a lavorare sulle tue intelligenze emotive? Sono le quattro R. Pronto? La prima R è quella di rendersi conto. Cioè se dovessimo individuare l'elemento più importante dell'intelligenza emotiva, questo sarebbe molto probabilmente la consapevolezza di sé. E questo perché? Perché senza questa abilità non saremmo in grado di valutare quelle che sono le nostre competenze attuali, quelli che sono i nostri punti di forza o i punti un po' più di criticità sui quali migliorarci. Sarebbe un po' insomma come procedere giocando a mosca cieca. Bene, le persone che hanno un'alta consapevolezza tra i vari pregi sono anche in grado di riconoscere come i sentimenti che vivono possono influenzare i comportamenti propri e altrui. Quindi, caro amico, caro amica, devi lavorare per aumentare la tua consapevolezza. Va bene, mi direi tu, ma com'è che faccio? Sono qui apposta. Stando di più solo ad ascoltarti? Sì, sicuramente questa è una strada che può aiutare. Ma non dobbiamo neanche esagerare. Perché non dobbiamo esagerare a isolarci? Perché diverse ricerche ci dicono che noi possiamo aumentare la consapevolezza su di noi quando stiamo in relazione con qualcun altro. Ti sarà capitato che mentre sei lì con una persona l'ascolti, capisci delle cose anche su di te, o no? A me è successo un milione di volte. Magari ti lasci anche andare a un'espressione di grande soddisfazione che il tuo interlocutore non capisce. Anche sentire cosa gli altri pensano di te ti apre a delle nuove consapevolezze. Inoltre, ricordati che proprio quando tu riesci a comprendere meglio te stesso, grazie alle persone che hai vicino, che assumi quell'autoconsapevolezza necessaria a meglio connetterti con loro. Chiaro? Bene, passiamo alla seconda R che è riconoscere. Per migliorare la tua intelligenza emotiva devi imparare ad affrontare le tue emozioni quando si palesano. Un ottimo modo consiste nell'effettuare una specie di check up quotidiano con se stessi. Domandati che cosa provi, che cosa senti in momenti della giornata tra loro differenti. Questo è utile perché tendenzialmente non prestiamo attenzione alle nostre emozioni se non quando, quando esplodono. E questo è un problema perché se non riconosciamo come ci sentiamo allora questi stati d'animo influenzeranno silenziosamente il nostro comportamento e noi non potremo fare nulla a questo proposito. Per intenderci quindi, non vale ascoltare le tue emozioni solo quando sei in tangenziale in coda da ormai un'ora e mezza e vorresti che tutte le automobili intorno a te improvvisamente prendessero fuoco. Oppure non vale ascoltare se stessi soltanto quando hai una sensazione di difficoltà che esplode dentro di te. Se tutta questa operazione, interrogarsi per riconoscere, dare un nome, ti dovesse sembrare un qualche cosa di inutile, allora prova a farti questa domanda. Ti è capitato di prendere pessime decisioni? Realizzare qualche momento dopo che le hai prese solo perché eri in preda ad alcune emozioni? O magari perché eri di cattivo umore? È un po' come quando vai a fare la spesa e sei affamato. Se non sei consapevole di cosa provi e perché lo provi, diventi allo stesso tempo artefice vittima dei tuoi stessi comportamenti. E quindi cosa succederà? Che tornerai a casa con 235 euro di spesa, 200 dei quali per prodotti che sicuramente non saranno approvati dal tuo cardiologo. Come procedere nella pratica? Potresti impostare una sveglia un paio di volte al giorno. Quando la sveglia suona, cosa fai? Ti ascolti, monitori la tua dimensione emotiva e magari l'ha noti su un piccolo quadernino. Lo so, lo so che lo sapete, che ho la fissa di mettere per iscritto determinate cose, ma ne vale veramente la pena. Fidatevi. Bene, passiamo ora alla terza R, ridefinire. Perché è importante ridefinire quello che stiamo vivendo? Il nostro cervello riesce a gestire un'emozione nella misura in cui sa di che cosa si tratta. Obbedisce cioè alla regola per cui per domarlo devi nominarlo, quindi devi trovare un nome a ciò che stai provando e non limitarti a definire le emozioni come buone o cattive. Cerca di essere il più dettagliato possibile in merito a ciò che vivi. Stai provando rabbia oppure frustrazione, nervosismo? Quello che percepisci è stress o ansia per il futuro incerto? Forse è una paura per ciò che presumi possa accadere? Oppure senti troppo pressante il peso delle responsabilità che hai nella vita e sul lavoro? Il punto è che più riesci ad affinare la comprensione delle tue emozioni, più avrai strumenti per affrontarle in maniera corretta. Insomma amici, è fondamentale lavorare giorno dopo giorno per incrementare, rinforzare, aumentare quella che la psicologa Lisa Feldman Barrett ha definito granularità emotiva, ovvero la capacità di mettere a fuoco le varie sfaccettature delle emozioni che proviamo. Se ti interessa questo argomento ti lascio in descrizione a questo video l'intervista che ho fatto proprio alla professoressa Lisa Feldman Barrett. Bene, siamo arrivati alla quarta e ultima R che sta per riformulare. Ma riformulare che cosa precisamente? Il modo attraverso il quale interpretiamo ciò che accade nel nostro corpo e in virtù di cui facciamo scaturire delle emozioni travolta tra loro opposte. Cioè quando ad esempio senti accelerare il battito cardiaco nel tuo corpo, puoi interpretarlo in diversi modi. Può essere gioia, ma anche ansia, frenesia, eccitazione. Cioè gli studi dimostrano che gli stati fisiologici sono identici. La differenza la fa che cosa? Il nome che noi diamo a essi. Il modo cioè in cui noi scegliamo di vederli. Quando devo andare a parlare in pubblico ad esempio, io sento sempre una certa quota di attivazione dentro di me, nel mio petto. E questa energia in realtà potrei chiamarla in diversi modi. Potrei chiamarla paura appunto o eccitazione. E attenzione perché il modo in cui io la chiamo la fa diventare reale. Per cui se inizio a etichettarla come paura, poi va a finire che farò una performance da impacciato. Mentre invece se capisco e la etichetto e la tratto come se fosse eccitazione, divento un trascinatore di folle. Quindi perché è così importante riformulare quello che noi stiamo vivendo? Perché ci aiuta a comprendere che ben lontane dalla condanna a un destino predeterminato, le emozioni sono in realtà come delle storie. Tocca soltanto a noi il decidere di riscriverle. Quindi per ricapitolare le quattro R, rendersi conto, riconoscere, ridefinire, riformulare. Cari amici, è tutto. Provate, provateci e fatemi sapere. Io vi lascio in descrizione a questo video alcuni link per approfondire il viaggio all'interno della nostra intelligenza emotiva, tra i quali anche il link al mio Mind Center, i centri di psicologia, psicoterapia e coaching da me, fondati e diretti, nei quali se volete potete prenotare degli appuntamenti con i vari psicologi che ci lavorano per continuare ad allenare la vostra intelligenza emotiva attraverso dei colloqui specifici. Bene, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, mettici un bel like, condividilo con una persona che ha interesse a scoprire questi contenuti e iscriviti al mio canale YouTube, eh? Così non perderai i prossimi aggiornamenti. Ciao e alla prossima.